Un concerto a sossegno della cura del tumore al seno. Mercoledì 9 novembre alle 21.15 al Teatro della Fortuna è in programma la Via Rose, l'appuntamento benefico il cui ricavato verrà destinato all'acquisto di un ecografo per il reparto dell'unità senologica di Marche Nord. Il biglietto avrà un costo di 15 euro e il concerto vedrà l'esibizione dell'orchestra sinfonica Rossini che sulle note dei Beatles farà esplodere la voce di Clarissa Vicky. Ci siamo concentrati sia sull'attività di prevenzione, di diffusione di una cultura della prevenzione che sia sempre più cosa normale per le donne perché sappiamo che il contrasto del tumore al seno, malattia di cui ha a che fare una donna su quattro nella vita, è maggiormente curabile se prima viene evidenziata, viene riconosciuta. Per cui la prevenzione è fondamentale, la prevenzione evita. Chiedo solo alla cittadinanza, alle persone che hanno voglia di sostenere l'unità di senologia e anche i percorsi di cura delle donne, di venire a teatro, di comprare il biglietto e di essere con noi mercoledì 9 novembre qui al Teatro della Fortuna per un bellissimo concerto di beneficenza. La serata sarà impreziosita dalla testimonianza di una giovane donna operata al seno che ha affrontato e vinto la sua battaglia, importanti le sue parole per infondere coraggio e testimoniare che si può guarire. Interverranno anche la direttrice dell'azienda ospedaliera Marche Nord, Maria Capalbo, e il direttore dell'unità operativa complessa di senologia Breast Unit, il dottor Cesare Magalotti. Vorremmo acquistare l'unità complessa di senologia, vorrebbe acquistare un ecografo da tenere in ambulatorio. Ovviamente non ha lo scopo della prevenzione assolutamente, questo lo siamo ai radiologi che sono bravissimi. Lo scopo è quello solamente di poter risolvere problemi che le pazienti presentano nel tempo post-operatorio, tipo raccolte di linfa o altre cose, proprio per risolvere il problema il prima possibile appena si presenta. Lo scopo è solo questo. Con il mese di ottobre abbiamo fatto 150 visite, l'affluenza è sempre stata molto maggiore, le richieste sono state maggiore, però i tempi sono stati questi qua. L'anno prossimo cerchiamo di organizzarci per poter lasciare spazio maggiore e è stato trovato qualche tumore che probabilmente sarebbe stato scoperto in ritardo, per cui siamo stati molto contenti. Le persone vedo che sono molto sensibili e questa cosa piace molto. Ricordo solamente di venire a fare le viste senologiche anche nel mese di novembre, dicembre, gennaio e febbraio e vari controlli, perché non è che il tumore della ammella esiste solo ad ottobre, ma per fortuna noi siamo a disposizione tutto l'anno. Naturalmente non saranno gratuite, dovete richiedere tramite il CUP, però noi siamo a disposizione, non dimenticate di fare gli esami di controllo e le viste senologiche. Siamo felici di poter dare il nostro contributo a questa causa, poi commentato alla presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Katia Amati, che ha aggiunto, partecipando allo spettacolo, si aiuta la nostra comunità. Noi è un onore partecipare a questi momenti di informazione, solidarietà e creare questi momenti di bellezza, ascoltando in questo caso musica. La Fondazione Teatro si è messa subito a disposizione dell'amministrazione comunale e dell'unità senologica per questo mese di ottobre, ormai che ogni anno diventa sempre più importante. La partecipazione che c'è stata alla camminata rosa ci dà forza anche di andare avanti e di essere protagonisti. In questo caso teatro con questa iniziativa del 9 novembre, questo concerto bellissimo insieme all'orchestra Sinfonica Rossini e a Clarissa Vicky, il botteghino a disposizione. In questi giorni che ci sono gli spettacoli, il botteghino è aperto mattina e pomeriggio, 10.30, 12.30, 17.30, 19.30 e il giorno dello spettacolo lo stesso dalla mattina alla sera. Per un evento così importante abbiamo voluto attingere dal nostro repertorio qualcosa che ci sta veramente caro ed è questo progetto sui Beatles, i Beatles come musica immortale, successi come Michelle, Yesterday, Let It Be, Something. Ci saranno tutti i successi dei Beatles interpretati da una piccola formazione classica, una sezione d'archi, insieme a una band pop rock, la classica band che si occupa di questa musica solitamente. Quindi un cross sound all'insegna della bellezza con la straordinaria voce solista di Clarissa Vicky, un'artista internazionale ormai partita assieme all'orchestra Rossini e assieme all'orchestra Rossini oggi calca i palcoscenici più importanti d'Europa.